Adesso parliamo di una proposta di Maria Elena Boschi, di metterla a par condicio anche ai giornalisti. E ce lo racconteranno in passaparola Marco Travaglio. Maria Elena Boschi teme che nessuno voti per Italia Viva, anche se adesso si è ammessa con Labonino e con Totò Cuffaro, o forse proprio per questo. E si è fatta l'idea che sia colpa dei giornalisti schierati, quindi vuole farli fuori dai talk della RAI in nome della par condicio, cioè della legge che regola la parità di accesso dei politici in campagna elettorale e in TV. Oppure sottoporli a contraddittorio, cioè se uno dice che piove ce ne vuole un altro che dica che c'è sole, se uno dice che la Libia è in Africa ce ne vuole un altro che dica che la Libia è in Oceania. La Boschi ignora l'articolo 21 della Costituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, però va capita perché l'articolo 21 vale soltanto per chi pensa e ha una strana idea di imparzialità. Pensa che imparziale è quello che non pensa, in realtà imparzialità è un'altra cosa. Quindi la Boschi vuole solo giornalisti RAI perché si fida solo di loro, evidentemente spera che si ricordino quando dieci anni fa lei e Renzi comandavano e alla RAI erano tutti renziani e boschiani, quindi tutti terzi e tutti imparziali al 100%, come ebbe i tempi della buonanima. Questa è la stampa di Torino del dicembre 1934, tredicesimo anno dell'era fascista. A Villa Torlonia il Duce pratica ogni giorno uno sport, il lunedì marcia, egli percorre con gioie senza sforzo apparente parecchi chilometri, ha un'andatura rapida e cadenzata, qualunque sia il tempo. Il martedì è dedicato al nuoto, i moderni sistemi di nuoto sono conosciuti dal Duce che si tuffa con audacia in piscina e nel mare e termina volentieri la nuotata conversando nell'acqua con i suoi figli. Sulla sua motocicletta o sulle sue auto da corsa, egli divora il mercoledì le belle strade che si snodano nella campagna romana. Pilota pieno di audacia non ha mai avuto il minimo incidente, se qualche volta il mezzo meccanico lo tradisce, non esita a ricercare lui stesso la causa del guasto senza preoccuparsi dell'olio e del grasso che sporcano le sue mani. L'abilità di Mussolini nel cavalcare è ben nota, il giovedì egli salta tutti gli ostacoli con facilità da perfetto audace cavaliere. Il suo cavallo bianco che egli circonda di ogni cura e che è davvero focoso sa comprendere l'affetto del suo padrone, nitrendo in modo significativo allorché sente la sua voce. Due ore di volo e di motonautica occupano il venerdì e costituiscono la migliore ricreazione del Duce. Il sabato è consacrato a una lunga seduta di scherma seguita da una di pugilato, anche in ciò Mussolini prova che il suo corpo ha un'agilità sorprendente. La domenica egli non dimentica l'indispensabile educazione fisica. Aggiungiamo inoltre che il Duce è pilota emerito che a bordo del suo aeroplano e del suo idrovolante ha coperto perfino da Roma a Venezia più di 800 chilometri senza scalo. Questa invece è l'Ansa del gennaio 2015, secondo anno dell'era renzista. Per il premier Matteo Renzi, vacanze di Capodanno in pieno relax sulle piste da sci di Curmaieri in Valle d'Aosta alle 9.30 in punto è sceso dalla foresteria della caserma Perenni, sede del centro addestramento alpino dove è ospitato da martedì sera. Assieme alla moglie Agnese e ai figli ad alcuni amici ha raggiunto le piste del comprensore del Monte Bianco accompagnato dal maestro di sci e istruttore militare Ettore Taufer. Sciatore esperto, il premier si è tuffato di buon'ora con stile sicuro in una non-stop di discese durata più di tre ore, anche su percorsi mediamente impegnativi. Giacca azzurra della Nazionale Olimpica di Sochi 2014, occhiale a specchio, attrezzatura impeccabile non hanno impedito agli increduliciatori di riconoscerlo. Neanche il tempo per lui di mettere gli sci, che già sui pendigli innevati ai piedi del Monte Bianco è tutto un hai visto Renzi? Il rituale del selfie non è stato negato a nessuno, anche il giovane fan più intraprendente è stato accontentato, tuttavia il premier Renzi non rinuncia a tenere un occhio puntato su Roma è un occhio bionico, non sappiamo se il destro o il sinistro, che ovunque lui si trovi nel mondo punta sempre dritto alla capitale. Per il bellione di Capodanno il premier ha scelto l'intimità dei congiunti prima della cena familiare ha seguito in televisione il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale ha telefonato subito dopo. Poi il commento su Twitter, nove anni di servizio, autorevolezza, responsabilità un Presidente cui oggi possiamo solo dire grazie Giorgio con l'hashtag mettiamocela tutta. Ecco, nell'era renzista i giornalisti erano tutti così, tutti imparziali e tutti terzi anche Repubblica era imparzialissima. Così il sindaco diventa fidanzato d'Italia, quello strano fluido della Leopolda. La Leopolda sembrava un film sexy degli anni 70 con Edwish Fenech, no? Quel gran pezzo della Leopolda, tutta nuda e tutta calda. Grazie 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 Grazie